Wewe ragazzi e bentornati, oggi andremo a vedere le 3 armi più baffate per ogni categoria Come voi tutti ben saprete dalla stagione 11 alla stagione 12 la Epic ha pensato bene di baffare un po' di armi vecchie E' già stata fatta una tabella per racchiudere più o meno i cambiamenti che sono stati eseguiti I crediti vanno a white sushi e oggi basandoci su questo schema andremo a provare le 3 più potenziate di ogni categoria Quindi le prime 3 armi che vedrete in alto ad ogni colonna Inutile dirvi che per leggere è stata bella bisogna leggerla così Quando il valore sta su 1.0 significa che l'arma non è stata cambiata Quando il valore sta sotto all'1 vuol dire che l'arma è stata addirittura depotenziata Come nel caso del dragone che in questo caso è stato addirittura depotenziato della metà Oppure dello zap zap o del plasmatron che sono stati depotenziati seppur di poco Comunque sono stati depotenziati E addirittura anche l'arco esplosivo Ma per ora mi sembrano le uniche Molte sono le armi che comunque stanno sul valore 1.0 Quindi rimaste invariate Ma moltissime sono le armi che sono state baffate Allora innanzitutto noi ci baseremo ovviamente sulle 3 di ogni categoria come vi ho già detto prima Ma ciò non significa che le altre armi sono state baffate di meno Sono un po' più scarse, sono un po' più deboli Assolutamente no Vuol dire che magari quell'arma era già tanto P che non ha avuto bisogno di tanti cambiamenti Di tanto buff Comunque andiamo a vedere nel dettaglio la situazione Allora partiamo dal ground pounder Un fucile pesante semi automatico tattico Fucile pesante militare a fuoco rapido con una rosa concentrata ma un rinculo notevole Ottimo per infliggere molti danni in fretta ma va ricaricato spesso Sinceramente non capisco come abbiano potuto potenziare quest'arma In quanto secondo me era già uno dei pompa più forti Certo non paragonati a quelli di ultima generazione Però comunque c'erano pompa che avevano bisogno di ulteriori buff rispetto al ground pounder Che secondo me è un'arma eccezionale Era eccezionale e adesso lo è diventata ancora di più Poi abbiamo il dissidente Fucile pesante doppietta Infligge danni ingenti e respinge più nemici in un'area ampia Ma a corto raggio È penalizzato dalla scarsa capienza del caricatore E dagli elevati tempi di ricarica Quindi ovviamente è una bella perk di velocità di ricarica Qua non la toglie più nessuno Anche questo dissidente ha ricevuto un buff particolarmente notevole Anche se comunque non ero al corrente di come fosse quest'arma prima di questa patch Non è che io l'abbia provata così tante volte Comunque ora come ora Certo è un pompa molto accettabile Ma ancora nulla di che Adesso il fucile pesante tubo a vuoto Quest'arma elemento natura Fa parte del set tubo a vuoto Anch'essa ha ricevuto un buff particolarmente notevole E questo fucile pesante è veramente particolare Poiché è un fucile pesante a raffica Spara raffiche rapidissime da tre colpi Che infliggono danni in natura È efficace contro i nemici acqua Ma debole contro i nemici fuoco Può stordire i nemici Ma non li respingerà Come tutte le armi del set tubo a vuoto Comunque che hanno questa particolarità di stordire i nemici Però posseggono veramente poco impatto Comunque posso dire la mia Questo pompa non me l'aspettavo così buono Anche questo bomba non ho mai avuto l'occasione di provarlo così bene Sinceramente non mi sono mai messo in testa di provare il fucile pesante tubo a vuoto Non so quanti di voi Ma sì lo provai all'epoca ma non me l'ero mai potenziato Beh in questa occasione devo dire che comunque si è dimostrato veramente veramente fedele Andando avanti nella lista comunque come vedete I pompa potenziati sono veramente tantissimi Dall'orso, la doppia caldaia, il pompa tubo a vuoto, il super gendarme, lo scoppiettatore, l'ammazzabietti Insomma ci sono un sacco di fucili a pompa interessantissimi che andrebbero anch'essi provati Ma adesso passiamo agli assalti E come potete vedere la prima della lista è il pistone a vapore Arma d'assalto semi-automatica steampunk dell'evento steampunk appunto Un fucile versatile che infligge danni costanti Seppur anche quest'arma non ho avuto molto l'occasione di provarla Sinceramente non ho potuto notare questo grande buff oppure questa grande potenza in quest'arma Non è un'arma che prediligo sinceramente per il suo modo di utilizzo Non ha un danno così esagerato come mi sarei aspettato Vabbè comunque questa è l'arma La sua perk particolare quando il proiettile va a segno si frantuma in frammenti che infliggono il 40% dei danni in un cono dietro al bersaglio Recupero 1,5 secondi Poi abbiamo il pulsar vindertech Un'arma d'assalto a scarica energetica Fucile d'assalto in grado di emettere precise scariche di energia che infliggono molti danni Consuma molte munizioni Infligge danno energetico altamente efficace contro tutti i nemici di tipo elementale Se posso dire la mia anche il pulsar vindertech non è un'arma che prediligo utilizzare Anche se comunque non mi è dispiaciuto il suo potenziale Poi abbiamo il raggio morte L'arma d'assalto a tecnologia avanzata Arma laser automatica Con un'elevata cadenza di tiro E una discreta precisione Infligge danni energetici e risulta mediamente efficace contro tutti i nemici elementali Quest'arma è molto comoda in quanto comunque ha un bel caricatore bello ampio Non spara a raffica Basterà scaricare tutto il caricatore Diciamo che è un'arma medio forte Sicuramente non è questo gran potenziale Però sicuramente resa leggermente più utile dopo questo aggiornamento E' il turno delle pistole Abbiamo la Space Invader Pistola a tecnologia avanzata Spara a cadenza elevata laser che rimbalzano sulle pareti Sono efficaci a lunga gittata e possono perforare più nemici Infligge danni energetici che la rendono mediamente efficace contro i nemici elementali Quindi la Space Invader usata in certe circostanze risulta parecchio parecchio potente In quanto i colpi comunque si sa Una volta che rimbalzano e continuano a infliggere danno a uno smash ripotetico Oppure a un mostro della nebbia, un cicciottello Comunque tutti i colpi rimbalzano Nono modo di colpire lo zombie molte molte più volte Così come abbiamo visto con la Cacao 45 Se usata particolarmente in un tunnel o in uno spazio comunque ristretto Diventa estremamente estremamente forte Poi abbiamo le Versore Vindertech Ma chi l'avrebbe mai detto che sarebbe mai diventata un'arma da poter utilizzare? Beh oddio poter utilizzare un gran parolone In quanto ci sono pistole veramente più forti al giorno d'oggi Ma con questo buff ricevuto le Versore Vindertech non mi è dispiaciuto utilizzarlo Pistola a cannone portatile energetico Una pistola a cadenza di tiro lenta Che spara scariche di energia potenti e precise Consuma molte munizioni Infligge danno energetico altamente efficace contro tutti i nemici di tipo elementale Queste Versore Vindertech Comunque si sa una volta era l'arma più rara del gioco Però comunque non è mai stata così forte Cioè diciamocelo Si teneva per collezione Io personalmente non sono uno che colleziona le armi in questa maniera Nel senso che si mi piace potenziarle Mi piace provarle All'epoca non ci avevo neanche dato troppo caso a queste Versore Vindertech Me lo sono maxato per testarlo insieme a voi E devo dire che ne sono rimasto veramente colpito Come terza pistola più potenziata Abbiamo la pistola Krypton Pistola al neon Spara colpi energetici a cadenza rapida Con elevati danni prolungati Infligge danno energetico Altamente efficace contro tutti i tipi di nemico elementale Beh che dire La pistola Krypton non è che io abbia avuto modo di provarla così tanto Prima dell'aggiornamento Molte di queste erano comunque armi appunto Che era quasi inutile potenziarle Forse per questo che sono le prime in alto Ecco perché ci tengo a dirvi di non concentrarci solamente sulle tre prime in alto Ma ovviamente di guardare quali sono i vari buff Se magari un'arma secondo voi era già forte prima e ha ricevuto un buff Sarà ancora più forte di quanto lo era prima È il turno delle SMG Abbiamo il colpo rapido fondatore Che è una mitraglietta La cadenza di tiro molto elevata Permette all'arma di infliggere danni elevati Seppur con un notevole dispendio di munizioni Ideale per il combattimento in movimento E sufficientemente precisa anche a medio raggio A condizione però di sparare raffiche brevi Infatti il colpo rapido fondatore Come queste mitragliette di questo genere qui Sono molto comode da utilizzare in movimento Non lo pensereste mai Ma finché non lo utilizzate Non vi renderete conto della situazione Ed è vero colpo rapido fondatore Non tutti lo abbiamo Ecco perché abbiamo il demolitore Un'arma molto molto simile Questa volta però il danno inflitto con quest'arma Rallenta la velocità di movimento La cadenza di tiro molto elevata Permette all'arma di infliggere danni elevati Seppur con un notevole dispendio di munizioni Ideale per il combattimento in movimento E sufficientemente precisa Anche a medio raggio A condizione di sparare raffiche brevi Quindi come potete vedere La stessa identica descrizione Del colpo rapido fondatore Infine come terza abbiamo la riptide Mitraglietta L'eccellente cadenza di tiro Permette all'arma di infliggere danni elevati Seppur con un notevole dispendio di munizioni Anch'essa ideale per il combattimento in movimento E sufficientemente precisa Anche a medio raggio A condizione di sparare raffiche brevi Ha una durevolezza ridotta Ma costi di costruzione di gran lunga inferiori E' il turno dei lanciatori Abbiamo come prima il lancia uova di Pasqua Arma esplosiva Scaglia uova che esplodono a contatto con il nemico Massimo 6 uova attive contemporaneamente Devo dire che comunque ora il lancia uova di Pasqua Seppur comunque non uno tra i miei preferiti Seppur non uno di top 10 Però devo dire che si è dimostrato Leggermente più utile rispetto a prima Esplosioni che fanno ribalzare i nemici Comunque infliggono anche abbastanza danno E che dire lo conoscete tutti bene Questo è il lancia uova di Pasqua Poi abbiamo il colosso Arma esplosiva Lancia granate Che feriscono e respingono i gruppi di nemici A medio raggio Non posso esprimere un'opinione coerente al 100% In quanto anch'essa non ho avuto modo di provarla così bene Prima dell'aggiornamento Insomma chi mai di voi si è mai tirato su un colosso Probabilmente qualcuno anche si Io personalmente no Devo dire che comunque l'arma in sé Si è carina Non mi piace troppo Non mi piace per il fatto che le granate vanno in giro A questo punto preferisco utilizzare il lanciapale di neve Terza arma baffata E anch'essa un'arma esplosiva Lancia granate che feriscono e respingono i gruppi di nemici a medio raggio Comunque bloccata su elemento acqua Doppia perk di danno Una velocità di ricarica Dagni e bersagli rallentati Perché come ultima perk Il danno inflitto con quest'arma rallenta la velocità di movimento Ed è molto molto utile Per anche zombie di altissimo livello Per ributtarli indietro Rallentarli E cercare di controllare comunque zombie in massa Più che altro Ora è il turno dei cecchini Abbiamo la balestra E successivamente la rubacuori Entrambe comunque sono la stessa arma Potenziate nello stesso modo Ecco perché non vedremo due gameplay distinti Vedremo direttamente solamente la rubacuori E che dire Sicuramente sul colpo singolo è veramente veramente fenomenale Però il problema maggiore resta pur sempre lo stesso Provate a sparare a 10 zombie che vi corrono davanti E vedrete che comunque la rubacuori resta più o meno inutile Anche infliggendo 2 milioni di danno Come terzo cecchino più potenziato Abbiamo il trapassa laser Fucile di precisione a tecnologia avanzata Fucile energia che può sparare normalmente O essere caricato per lanciare un singolo dardo Ad alta potenza che infligge danni estremi Perforando più nemici I suoi danni energetici lo rendono mediamente efficace Contro tutti i nemici elementali Quindi come dice la descrizione Quest'arma riesce a trapassare più di un nemico Molto forte sul colpo singolo Certo con le build eccetera eccetera Se carichiamo il colpo è davvero fenomenale A patto che entri critico ovviamente Allo stesso tempo non è un'arma su cui possiamo fare Completamente affidamento Come tutte quelle che abbiamo visto finora del resto no? Ma queste erano solamente le prime tre di tutte le categorie Semplicemente più potenziate Quindi badate bene Non sono le tre armi più forti di ogni categoria Ma semplicemente quelle che più o meno Hanno quasi raddoppiato Ma in certi casi nemmeno raddoppiato Le tre che hanno ricevuto il maggior buff Dopo questa stagione Sicuramente ci sono armi veramente Molto molto più forti e più utili Questo non serve che io ve lo ricordi Ci tenevo a condividere con voi comunque questa lista Trovate la lista completa in descrizione La trovate nel primo commento La troverete ovunque Mi raccomando di lasciare solo un bel like sotto questo video Ma già che ci siete Fatemi sapere Su questa lista vi piacerebbe vedere anche un ulteriore episodio? Magari possiamo fare oltre che le prime tre Vi so che queste le abbiamo già fatte Insomma fatemelo sapere con un commento voi qui sotto Io per oggi vi saluto Noi ci vediamo alla prossima Bella Bella Noi ci vediamo alla prossima 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 Noi ci vediamo alla prossima